Un cauto ottimismo dopo oltre due anni bui di pandemia. Tra le cooperative torinesi aumentano quelle che registrano una crescita del fatturato e dell'occupazione. A fare da contraltare però c'è il calo inesorabile del numero delle coop attive sul territorio. In dieci anni nella provincia di Torino sono passate dalle 1600 del 2012 alle 1200 del primo semestre di quest'anno. Lo dice l'ultimo rapporto della Camera di Commercio torinese che mette insieme gli associati locali di Lega Coop, Conf Cooperative e AGC. Una flessione ancora più significativa se si guarda alle cooperative giovanili. Cinque anni fa erano 81, oggi sono solo 33. Un mondo che in Piemonte pesa meno che in altre regioni. Nel torinese le cooperative rappresentano lo 0,6 per cento di tutte le imprese attive e hanno dimensioni limitate. Tuttavia nel 2021 hanno generato 2,3 miliardi di euro di valore della produzione con oltre 41 mila persone impiegate. I settori più gettonati sono i servizi alle imprese e alle persone e poi il commercio. Oltre una coop su quattro è gestita da donne. Realtà che si stanno ancora riprendendo dalla batossa della pandemia. Turismo, cultura e sport sono i settori che più lamentano le ricadute del covid. Ora però il timore è un altro, quello dei rincari energetici che spaventa soprattutto le coppie impegnate in agricoltura e sanità.